Salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia del vostro Guerre 76 dopo aver visto ieri la personalizzazione Android Home Screen targata Andrea Corvi alias DJ Scarpia, insomma vi ho lasciato anche tutti i link in descrizione per andare appunto a scaricarvi questi vari widget, queste varie applicazioni che ci permettono anche di andare a sviluppare poi un home screen di Android e oggi andiamo a vedere quello che potrebbe essere una base di una vostra home screen, sto parlando dei vari pacchetti icone, allora questi sono 5 pacchetti icone che all'interno di maggio barra giugno si sono evidenziati all'interno del Play Store per i vostri più uno, per il vostro piacere anche all'interno dei vari gruppi su Facebook, su Google Plus, insomma all'interno delle varie community ci sono stati appunto dei pacchetti icone che si sono valorizzati maggiormente rispetto ad altri, il primo è senza roba di dubbio Iride UI is Hipster, un pacchetti icone direi in stile vintage, un pacchetto che integra un po' di Android Stock, un po' di questo stile appunto vintage, vintage insomma come lo volete chiamare con un effetto un po' retro anche sul colore, molto bello come pacchetto icone, molto stock e questo piace anche a voi, lo vedete proprio dalle varie icone come Google Drive e Dropbox, non si alterano tanto come aspetto, però insomma c'è un po' di stile, c'è un po' di personalizzazione da parte del produttore, da parte dello sviluppatore, nonché anche ci sono tantissimi sfondi che si vanno adattare alle nostre icone, sfondi che sono anch'essi con un colore un po' retro e quindi le nostre home vengano secondo me al meglio con questa tipologia di pacchetto icone. Un altro nuovo e degno di nota assolutamente è Roundex, è un pacchetto icone italiano in stile tondo, lo vedete, è un profilo marcato, un profilo anche tridimensionale, lo si può notare anche dalle varie icone, anche qui ci sono tanti sfondi al suo interno che si adattano alla perfezione alle nostre home screen, è un pacchetto che mi piace, mi piace perché ci sono dei colori forti al suo interno, non ci sono tutte le icone compatibili ma all'interno dell'applicazione quando lo andiamo a scaricare possiamo tranquillamente richiedere ulteriori icone mancanti allo sviluppatore, si parla di sviluppatori italiani, io lo conosco come Movmo e Science89, non so se sempre collaborano, comunque io li conosco per questa tipologia di nomea su Google+, su Twitter, insomma, quindi li saluto e li ringrazio anche per i loro pacchetti icone, secondo me molto belli, ma proprio ci tengono alla community, ci tengono anche a farli vedere e a provarli in anteprima tramite le varie beta, quindi assolutamente promosso, stesso sviluppatore hanno ultimamente tirato fuori anche le TAI, TAI che è un pacchetto icone non tondo ma stiamo parlando di un pacchetto icone quadrato, sullo stesso stile di Roundex lo vedete anche dalle icone che si assomigliano tantissimo come proprio base, ecco partono da una base, la base è questa ed è sicuramente un pacchetto icone che potrebbe far successo se non già lo ha fatto perché essendo quadrato rientra in tanti stili di pacchetti icone ma soprattutto in tanti stili di home screen con un bel orologio qua nel centro e poi magari una fila di tre icone per tre su proprio la nostra, sulla nostra base della home screen, anche qua abbiamo tanti sfondi al suo interno e quindi li possiamo tranquillamente adattare, gli sfondi sono in alta definizione nonché anche possiamo anche in questo senso andare a richiedere le nostre icone, ho detto senso non a caso perché senso è il quarto pacchetto icone, anche questo secondo me molto bello, vedete mancano delle icone come per esempio potrebbe essere periscope ma ormai sappiamo come periscope sia un'applicazione talmente usata, anzi works86 anche su periscope che non tarderà assolutamente ad arrivare, è un misto tra un'icona quadrata con anche dei bordi smussati, lo vedete molto bello come pacchetto perché è uno di quei pacchetti che aumenta un po' la dimensione delle icone quindi potete magari vederla meglio, visualizzarla vedete molto bello, mi piace tanto questo pacchetto icone, è uno dei miei preferiti e quindi ve l'ho messa all'interno della top 5 di questo periodo qua, manca ancora se lo vogliamo dirla, se vogliamo dirla tutta alcune icone però insomma siamo nell'ordine delle idee che dovrebbe arrivare a breve. Polycon è un altro pacchetto icone, si trova gratis, dovrebbe essere gratuito all'interno del Play Store altrimenti comunque vi lascerò il link in descrizione, assomiglia un po' a quello che è lo stile di Irid Ui però è un po' un misto tra moonshine, vedete come per esempio l'icona di Fenix, l'icona di Facebook è un'icona standard, un'icona quasi che assomiglia al template originale mentre varia Whatsapp, varia Google+, vedete il tondo cosa che assolutamente non è Google+, quindi c'è un po' di mix all'interno di questo pacchetto icone, secondo me interessantissimo perché non stravolge la vostra interfaccia e potrebbe fare veramente al caso vostro. Insomma 5 pacchetti icone che io vi lascerò, comunque il link è in descrizione, quindi non vi preoccupatevi, basterà cliccare su quel link e verrete riportati al Play Store. L'unica cosa che vi chiedo, se vi è piaciuto il video cliccate questo mi piace, almeno così arriviamo a 100, 200, 300, 400 mi piace così il video riuscirà a arrivare un pochino di più ai vari utenti per vedere appunto questa home screen, se poi vi piace questo layout, ovvero il widget, il template, Google, la barra di ricerca persistente, la doc, trovate tutto nel video di ieri, quindi non c'è nessun tipo di problema nell'andare a ritroso, quindi andate nel video di ieri e c'è tutta la varia descrizione su come comporre questa home screen. Per oggi è tutto cari ragazzi, ci sentiamo nei prossimi video, un saluto da Volkswagen86.